ciao a tutti oggi prepareremo la crema al pistacchio mascarpone e panna il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa ingredienti sono mascarpone crema di pistacchi panna fresca per dolci zucchero a velo e granella di pistacchi andiamo via la ricetta iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame mettere la panna che deve essere ben fredda noi consigliamo di metterla per 45 minuti in congelatore prima di montare aggiungere lo zucchero a velo e montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5 la panna è ben montata mettere da parte in una ciotola capiente e rimuovere la farfalla senza lavare il boccale mettere il mascarpone la crema di pistacchi ed amalgamare per un minuto a velocità 3 trasferire nella ciotola con la panna amalgamare bene la crema è pronta crema al pistacchio mascarpone e panna ideale come dolce al cucchiaio o per farcire tiramisù torte bignè e crostate si conserva in frigo per due giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti